Non solo i dog sitter, lavoro anche in un negozio di animali, sono un po' socio. Ma non parliamo di me, parliamo di sé, parliamo di sé. Cosa fai, cosa fai di bello? Di bello niente. Tutto quello che fanno le ragazze alla mia età. Ho 19 anni, mi prostituisco e prendo 250 milioni di rabotta. È pronta la panzanella? Il conto! Senti, Ottone, ma il patata mi ha detto che a te non ti garba il mare. No, non è che non mi garba, è che il caldo mi dà noia. Ma non parliamo di me, parliamo di sé, parliamo di sé. Cosa fai, cosa fai di bello? Ma lavoro in una cartiera col mio babbo, gioco a pallavolo nel poggio a caiano e mi garba parecchio andare a pescare. Ma parecchio, eh? Trote, carpe, finche. E del pesce mi garba parecchio anche l'odore, guarda un po'. E a te? Il conto! Sai, mio padre quando si è separato per la terza volta ci ha rimesso un pacco di soldi. Ma, d'altra parte, il matrimonio è solo un contratto, no? Tu cosa ne pensi? Io? Il conto! Ma faranno qui la trippa? Il conto! Con il mio ex facevamo l'amore fino a sei volte al giorno. E tu? C'hai questo ritmo? Che porti conto? E tu? Tu? C'hai questo ritmo? Che porti.